Musica Dopo l'inchiesta che ha coinvolto il direttore generale di Atto Toscana Sud in merito alla gestione del ciclo dei rifiuti, l'amministratore delegato e un consigliere di Sei Toscana hanno rassegnato le dimissioni. A renderlo noto tramite una nota è la stessa Sei Toscana. Sono pervenuta al consiglio d'amministrazione le dimissioni del consigliere Marco Buzzichelli e dell'amministratore delegato Eros Organi. Preso atto delle dimissioni presentate, il CDA ha conferito le deleghe e le procure protempore a Roberto Paolini, nominato presidente di Sei Toscana lo scorso 19 maggio. Adottando in tal modo tutti i provvedimenti necessari a garantire l'operatività dell'azienda, che spiega la nota, non è mai stata messa in discussione. La gara al centro dell'inchiesta riguarda la gestione ventenale del ciclo dei rifiuti nelle province di Siena, Grosseto e Arezzo. Ai domiciliari era finito il direttore generale Andrea Corti, mentre Buzzichelli, Organi e l'avvocato Valerio Menaldi sono stati interdetti da professioni e imprese. Intanto è arrivata una nota di Auto Toscana Sud a seguito delle polemiche sulla nomina di Enzio Tacconi come direttore generale protempore. In merito alla designazione dell'ingegnere Enzio Tacconi in qualità di nuovo direttore di Auto Rifiuti Toscana Sud, si precisa ulteriormente che la nomina indirizza la scelta in caso di impedimento del direttore generale in carica soltanto verso un dipendente Ato. La designazione è temporanea e l'assemblea Ato ha deciso di richiedere al direttore generale, il dottor Andrea Corti, che si è sospeso, le dimissioni e in mancanza di avviare con celerità la procedura di revoca. La designazione dell'ingegnere Enzo Tacconi, che non risulta indagato nell'ambito del procedimento penale in corso, che riguarda altri soggetti, è dunque da ritenersi necessaria per garantire la continuità dei servizi e delle funzioni del lato rifiuti.